La città globale, la città cioè in cui ognuno... Grazie Nicolino, grazie di aver coinvolto l'Azienda Calabria Lavoro in una stessa molto importante che congiunge e sicuramente è un territorio che gli americani dicono di global a global, cioè pensa in grande e a chi c'è. E' proprio per questo che la giunta Scobeliti ha messo in piedi... ...di quell'intervento armato sono state più di una, per esempio ha rischiato anche... Prima di tutto l'Albania ha adottato una politica di moderazione, una politica di collaborazione nei Balcani, una regione che aveva e anche ha dei problemi dal ipernazionalismo e i problemi che sono risultati dopo il scioglimento dell'ex Jugoslavia. Questo è molto importante perché i Balcani sono una regione importante per tutta la sicurezza europea. Noi in quadro delle diverse iniziative regionali stiamo dando un impulso di collaborazione ma anche di contributo per la sicurezza, pace e stabilità in quella regione. E poi nel framework, nel contesto europeo, Albania è un membro del Nato, un membro serio, contribuente anche nelle diverse iniziative per il Mediterraneo, sia di Nato anche dell'Unione Europea. Siamo realmente interessati per stabilità e pace nel tutto Mediterraneo, di nord e di sud e proviamo di dare una contribuzione tramite quelle iniziative e quelle organizzazioni.